Io ero lì, che stavo aspettando per entrare alle 8 e un quarto, 8 e un quarto, 8 e 20, e dopodiché praticamente ho visto entrare tutti i poliziotti mascherati, cappucciati. Fermi tutti, ci siamo fermati, quindi... Ma tu non l'hai visto? No, 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 proprio era fermo, cioè ci hanno bloccato a tutti, io stavo entrando per fare... E ci hanno bloccato a tutti, a 8 e un quarto sono entrati un manicomio, sembravano fare questo, mi sembravano tutti incappucciati, tutti i cosi. Ma nei pressi del bar avevi... No, no, non ero neanche nato, cioè non ero neanche entrato al bar, stavamo entrando per andare al bar, poi sono uscito che mi sono fumato una sigaretta e da alcun momento in poi ero lì e è successo un manicomio. Sono uscito adesso.